Sono Monica Brancato-Gliozzi, rappresento Arcobaleno, la comunità tarifale Ticino-Movesano, che propone i biglietti e abbonamenti Arcobaleno per viaggiare in tutto il Ticino-Movesano sui trasporti pubblici che rientrano nella comunità. Siamo venuti a Espo Ticino riproducendo una fermata del trasporto pubblico in linea con il tema delle strade in movimento e abbiamo portato con noi anche un distributore di biglietti per permettere alle persone di capire meglio il funzionamento con l'aiuto di personale formato presente allo stand. Abbiamo con noi anche il kit ApeCard che può essere richiesto in omaggio. Si tratta di una carta con cui pagare biglietti e abbonamenti beneficiando di plusvalori di ricarica. Allo stand proponiamo un sondaggio legato al trasporto pubblico del Bellinzonese per capire quali sono le prime sensazioni dopo l'introduzione di dicembre e un concorso a premi proposto da Arcobaleno che mette in paglia un rail check da 500 franchi per l'acquisto di biglietti e abbonamenti di Arcobaleno. Venite a trovarci quindi vi aspettiamo al padiglione 4 stand numero 17. Buona fortuna con Arcobaleno! Grazie a tutti!